Grazie Presidente, con questa delibera andiamo ad aggiornare la classificazione degli impianti sportivi comunali che abbiamo approvato nel 2019 e ricordo che la stessa delibera prevedeva appunto un aggiornamento periodico della stessa, in particolare parliamo di Campo Testaccio, non sto qui a riassumere la storia dell'impianto che conosciamo tutti e la rilevanza appunto dell'impianto, con questa delibera noi ne riconosciamo appunto la rilevanza cittadina e quindi per quanto riguarda la questione della competenza amministrativa la si riporta in carico al dipartimento. Più in generale per quanto riguarda ciò che è intenzione da parte dell'amministrazione poi realizzare nell'area di Campo Testaccio, che è stato l'oggetto tra l'altro di lunghe discussioni e confronti sia in sede della Commissione Sport Capitolina, sia nella Commissione Municipale dove io stesso ho partecipato più volte, dove appunto ci siamo confrontati sia con la Regione… No, sentiamo più consigliere, ecco… Sì, allora, dicevo il dibattito che riguarda il Campo Testaccio si è svolto in occasione di tante commissioni, sia capitoline sia municipali, durante le quali hanno partecipato tutti i soggetti che hanno seguito l'iter che porterà alla riqualificazione dell'area, appunto anche io ringrazio i comitati, le associazioni che hanno partecipato insieme al municipio al processo partecipativo e hanno delineato appunto delle… quelle che devono essere le caratteristiche del progetto che sarà poi realizzato e approfitto per puntualizzare un aspetto che è stato oggetto tra l'altro appunto proprio di discussione in occasione dell'espressione del parere della Commissione, ovvero in questa delibera il Dipartimento Sport che ha il… come tutte le strutture amministrative il compito di fotografare lo stato dei luoghi e quindi facendo riferimento al regolamento del 2018 e tutti i parametri in esso contenuti, quindi la presenza di strutture sportive, la presenza di spalti, la presenza di spogliatoi, eccetera, sostanzialmente ha preso atto appunto di quella che è la realtà, ovvero in questo momento non esiste un impianto sportivo, esiste semplicemente un'area, un'area che ha destinazione sportiva e che appunto poi nelle intenzioni sia del municipio sia della Commissione Sport, dell'Assemblea Capitolina è quella di realizzare un progetto, di approvare un progetto per la realizzazione di un impianto sportivo comunale e quindi appunto per questo motivo comunque l'area era, è e sarà utilizzata soltanto a fini sportivi e con un impianto vero e proprio, quindi non vogliamo che venga considerata un semplice parco con un playground come anche è stato detto, no, e questo lo abbiamo inserito appunto espressamente nella delibera e poi quindi per quanto è andando a parlare poi anche di quello che interessa fondamentalmente al territorio andremo a sviluppare il prossimo progetto che allo stato attuale come è emerso durante l'ultima commissione municipale si tratta in sostanza di elaborare ed approvare un progetto, quindi che dovrà passare in conferenza di servizi dovrà seguire tutto l'iter che ancora non è stato avviato e poi appunto stabilire i criteri per la gestione dell'area le associazioni giustamente richiedono che nella gestione venga sia protagonista il territorio quindi le realtà associative del territorio, questa è una caratteristica imprescindibile è una richiesta che è fatta dal territorio e che appunto andremo a delineare poi in tutto il lavoro che seguirà che fondamentalmente poi è il tema di interesse per Campotestaccio più che la delibera in sé e l'assegnazione della competenza amministrativa che sostanzialmente poi è indipendente da quello che sarà il percorso che vedrà invece interessato il progetto e mi riservo eventualmente di intervenire poi in discussione generale se ci sarà bisogno grazie